Signori, welcome back da Gestas, oggi Fossato di Vico. Solito ragazzi, misto di salumi, due tipi di salami differenti, capocollo e prosciutto crudo. Abbiamo un tortino, crostini misti con vari sughetti, una torta salata, qualche pezzo di formaggio e pecorino. Queste sono le porzioni. E devo dire che anche oggi siamo sul letto e mezzo di pasta? Ci stiamo scelto nei cosfermi? Sì, come dice il buon Luca, oggi si mangia forte ragazzi, l'aveva detto. Sucotoga bundiale. Ragù, oh regà, porzione è importante veramente, faremo un testo. I primi sono andati, come potete ben vedere. Vediamo di cosa stiamo parlando. Bistecchina di collo. Agnellino. Bello. Fossato di Vico, ristorante Chris. Continuate a seguirci su tutti i social, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Dallo chef Lia, dal buon Lorenzo e dal buon Luca, da Fossato di Vico, dal ristorante Chris è tutto. Ragazzi.